Quello che ho detto lo faccio vedere, perché naturalmente tu te ne stai dimenticando. Ecco, ho il parma sulla pelle, alla mia destra il presidente Girardi, alla sinistra il direttore Leonardo. Ogni promessa... Ma tanto sti dico, sono come quelli dei... No, ma che quelli dei parmini, ma questi sono indelebili, lo vedi benissimo, lo vedono anche i bimbi che sono indelebili. Visto che c'è qui, dice qua, che io mi lancio credito, ecco qua. Girardi e Leonardo. Girardi sulla mia pelle. Tu mi vuoi far credere che quest'estate vai al mare in spiaggia? Vado al mare così e questi resteranno sempre con me, sul mio cuore, sul mio fegato, sulla mia pelle. Quindi i tifosi del parma devono prendere esempio da questi grandi personaggi. Alessandra che sta scoppiando da ridere. Andiamo a presentare l'altra parte dello studio. Ecco, dico solo, insomma, mi dispiace per te e per i tuoi familiari. Andiamo dall'altra parte dello...